Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Simone e oggi voglio sempre parlarvi di un'app per far crescere i follower che si chiama Fudzone Plus, se siete in inglese e volete fare i figli. Molto semplice, vi faccio sempre il classico esempio con l'account della mia gatta. Io vedo questa schermata perché ho già effettuato il login, comunque come potete vedere è molto intuitiva. Se volete prendere dei like, cliccate su una foto, tipo 4 like, faccio get for 16 diamonds. Come sentite la mia pronuncia è fantastica. Qui sotto dice che ha creato un ordine, io vado qui sotto e ricarico la schermata. Ecco, come vedete qua sotto ho già preso dei follower in passato, comunque volevo 4 like in più, ne ho 3 di 4, magari ricaricando spunta al quarto. E invece no, vabbè, comunque arriverà a brevissimo. Come funziona? Che bisogna accumulare diamanti. Basta andare su questa schermata qua, si clicca e questa app inizia praticamente a produrre diamanti in background. Un po' come se fosse una sorta di mining nelle cryptocurrency. Quante belle parole in inglese che dobbiamo utilizzare ogni giorno nella nostra vita. Comunque, vabbè, io in questo momento ho 1776 diamanti. Che ci faccio? Beh, io direi che mi prendo 70 follower per 700. Quindi se la matematica non è un'opinione, se io faccio... Ups, questo è mezzo. Ok, se io faccio così. 150, 1500, 160, 1600, 170, 1700. Vabbè, direi che 170 follower mi vanno a bere. Get. Aspettiamo un attimo che carica e invia l'ordine. L'ordine è stato creato. Facciamo open. Intanto ricarichiamo e aspettiamo. Ok, intanto i 4 like li ho presi. Adesso vediamo se arriveranno questi 170 follower effettivamente. I più... Quelli che stanno vedendo questo video con l'occhio più lungo si saranno accorti che avevo... Anche circa 1900 follower. Sono le 17,58 del 27 febbraio. Quindi stiamo a vedere tra... Tra qualche minuto, insomma, se avrò 2k di follower. Metto il video in pausa e ci vediamo tra un po'. Giusto un'anteprima. Guardate che sono arrivati effettivamente 4 like e 12 follower. Altri 2 follower in diretta. Mr. Krishna Chowun ha iniziato una diretta ma non ci interessa. Altri 5 follower, signori. 5 follower. Chi offre di più sembra quasi un gioco all'asta. Però in realtà è la verità. Perché piano piano vedete questa app ci spara questi bellissimi follower. Che poi io non ho mai capito bene perché. Ma sembrano tutti indiani, filippini. Non perché io sia razzista, per carità. Ma qualche follower italiano. Sembra che utilizzino tutte loro quest'app. Vabbè, oro blu 94 sarà italiano. Però con questo splendido account non so quanto possa essere utile come follower. Vabbè, ci risentiamo tra poco. Ok, ok. Siamo a 1999. Stiamo. Ecco. 1998. Vabbè, è calato. Può succedere. Può succedere. Ma siamo in 1999. Volevo fare il video a questo main event. In cui arriveremo a 2000 follower. Spero che ci arrivi presto. Ecco, sta pure squillando il telefono. Rimettiamo in pausa ragazzi. E 2000. Signori. Abbiamo superato i 2000 follower. Superato ancora no. Siamo a 2000. Magari adesso cala. Quindi meglio se chiudo subito. Torno su Fazan. Vi faccio vedere quello che è il mio referral code. Con cui dovreste registrare. Per farmi avere molti più diamanti. E per far diventare Abby the Cat. Cioè Abby, la mia gattina famosissima. Quindi vi saluto. E ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.